Due fratelli di vent'anni residenti Ozzegna disoccupati con pregiudizi di polizia sono stati arrestati per detenzione e spaccio di droga. La scorsa mattina i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Ivrea, in seguito a un coordinato servizio di osservazione e controllo nell'ambito del territorio, hanno sottoposto a prequisizione domiciliare Ozzegna l'abitazione dei due fratelli, già noti alle forze dell'ordine, trovando e sequestrando oltre un chilo di marijuana, quasi 900 grammi di hashish, di cui 90 grammi suddivisi all'interno di nuovi ovuli già confezionati e pronti per lo smercio nella piazza canalesana, unitamente a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, diversi telefoni cellulari e circa 1000 euro di denaro contante e ritenuto provento delle lecite attività di spaccio, nella circostanza all'esito di ulteriori perquisizioni domiciliari operate nei confronti di altri soggetti, affine i due fratelli, i carabinieri hanno segnalato alla competente autorità amministrativa due persone, avendo trovato all'interno delle loro abitazioni modica quantità di hashish e marijuana. I due fratelli, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, nell'attesa dell'udienza di convalida e del conseguente giudizio per direttissima.